Ho veramente fatto tanti ruoli, a parte da mezz'ala, destra, sinistra, esterno, sinistro, alto, poi basso, destro. Però sinceramente se uno mi diceva magari prima che venissi qua che sono in grado a fare questo ruolo e che sono in grado a accettare tutti quegli cambiamenti che mi sono capitati, non lo crederei. Però poi piano piano con il mister mi ha dato una grande mano, mi ha dato consigli importanti e diciamo che è stato bravo lui a ottenere il mio massimo, a tirare fuori le cose che magari ho dentro. La prima gara abbiamo sofferto, hanno fatto un'ottima gara loro, poi le cose magari non giravano bene e adesso le ultime 3-4 partite, da quando hanno cambiato il mister, le cose vanno bene. Sicuramente c'è lì entusiasmo, sarà una partita molto importante per loro. Però però... Grazie. Grazie. Grazie.